Oggi parliamo del topolino 3411. Iniziamo! Amici, bentornati sul canale, bentornati su Recenso, la videorubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm. Nella puntata di oggi, non pensavo sarebbe mai stato possibile, invece per fortuna è arrivato, anche se in estremo ritardo, parliamo del topolino 3411. Abbiamo per il momento smesso di fare i nostri recuperi, ma non diciamolo troppo ad alta voce, le cose potrebbero cambiare e probabilmente sto scoprendo, parlando col postino, che non è colpa di poste italiane. Panini! Bando alle ciance, la prima storia è la banda Bassotti e il furto quasi perfetto. In questa prima puntata troviamo di nuovo protagonista Paperone, di nuovo protagonista il deposito e le sue ricchezze. E tornano ovviamente, come dice il titolo, anche i Bassotti. Bassotti che vengono raggiunti da una loro lontana cugina che sembra essere un cervellone incredibile, istruita alla perfezione, tenta di mettere in moto un piano ben congeniato per derubare Paperone, illudendolo con una serie di premi gratuiti. La storia ha un ritmo veramente molto molto incalzante, mi è piaciuta particolarmente, è molto trascinante, non stanca mai e gli eventi si succedono quindi in una maniera molto naturale. Alle volte sembra quasi di vedere un telefilm, soprattutto perché quando arriviamo alla fine la suspense ci blocca in un momento topico e siamo costretti quindi a dover aspettare la settimana prossima per sapere come continua. Un lavoro molto ben fatto che segna anche il ritorno di Silvia Ziche. Pianeta Paperone, mai più Limousine. Questa storia ci butta direttamente indietro nel tempo e lo fa sotto i due piani che sono quelli della storia è quello del disegno. Ovviamente di primo acchitto è il disegno che ci fa tornare a un qualcosa di più vintage ma lo vediamo dopo perché la storia vede il protagonista Paperone che è di nuovo imbottigliato nel traffico e dà la colpa alla sua adorata Limousine e per un botta di capo decide di liberarsene per arrivare a qualcosa di più tecnologico e soprattutto di più economico come consumi. Decide poi che non è giusto disfarsene e farà quindi l'impossibile per riottenere la sua fidata quattro ruote. La storia è molto semplice molto tranquilla non ha chissà cosa a pretendere come tutte quindi le storie da altri tempi però riesce comunque senza guardare in faccia a nessuno ad andare dritta per la sua strada raccontando se stessa in maniera appunto molto tranquilla serena e soprattutto coinvolgente. Pippo è la tettoia indispensabile. Questa storia particolarmente breve vede come protagonista Pippo che decide di arredare nuovamente casa ma per poterlo fare ha bisogno di alcuni permessi però il comune lo informa che la sua casa non è mai stata neanche accatastata. Siccome le cose diventano difficili per lui interviene Topolino che cerca di aiutarlo soprattutto sul lato burocratico della faccenda andando quindi a scoprire i motivi per i quali Pippo non riesce nel suo intento. La storia è molto carina molto divertente il fatto che con una certa naturalezza si vadano a scoprire gli ingranaggi di quello che succede soprattutto che questi vocaboli catasto e tutto il resto siano trattati con una semplicità disarmante ci li facciano anche capire e apprezzare rendono la storia ancora più bella da poter leggere perché la rendono appunto realistica e poi stiamo parlando pur sempre di Pippo che è sempre sopra le righe e di un Topolino che questa volta non va contro i desideri di Pippo ma anzi cerca di capire e di aiutare l'amico e questo l'ho apprezzato particolarmente. Paperino e la poltrona dei poltroni. Altra storia nella quale si sottolinea un po' quello che è la voglia del dolce far niente di questo papero però allo stesso tempo è un dolce far niente molto ricercato perché stavolta è circondato dalle pubblicità di una poltrona ultra tecnologica e ultra comoda e decide che deve farsi gabbare dalla pubblicità e acquistarla. Nel fare questo però è trascinato in una serie di eventi molto particolari che sicuramente lo coinvolgono in prima persona e lo allontanano sempre di più da quello che invece è il suo sogno di relax. La storia sembra raccontare momenti diversi eventi diversi che però poi si ricongiungono in un'unica storia soprattutto sul finale. Un finale nel quale i protagonisti spiegano quello che è successo e perché Paperino c'è capitato di mezzo. Molto bella molto interessante a un ritmo molto coinvolgente sicuramente poi aiutata dal disegno ma lo vediamo dopo. Gamba di legno in dove non osano le acuile. Il titolo è molto interessante ma in realtà sembra una storia che abbiamo già visto e se non l'abbiamo vista nelle pagine del topolino l'abbiamo vista sicuramente in qualche altro prodotto perché è una storia nella quale Gamba di legno segue sgrinfia dopo che hanno rapinato una banca e devono ricercare quello che è stato rubato e trafugato cioè un uovo d'oro ma è nella combutta con un'aquila e nei tentativi che fanno di recuperarla e di metterci in mezzo questa benedetta aquila che rende la cosa molto particolare e sicuramente poco originale per come è stata raccontata. Lo stratagemma quello che è la relazione con quest'aquila e tutta la storia che ci gira attorno non ha nulla di nuovo anche se però devo dire la verità il disegno è interessantissimo. E l'ultima storia che troviamo in questo numero si chiama area 15 la combo perfetta in realtà è solo una preview infatti il sottotitolo è special preview 1. Sono pochissime pagine nelle quali quo finalmente entra anche lui nell'area 15 portando con sé quella che è la sua passione per i videogiochi ma appunto essendo una preview non c'è granché da dire staremo a vedere cosa ne esce la settimana prossima. Siamo nella sezione del disegno devo dire la verità già dalla copertina la cosa è spettacolare perché mi piace tantissimo il modo con il quale questo paperone è reso in contrapposizione con la parte colorata e invece l'interno o meglio all'esterno del cavo che invece è monocromatica quasi. Meraviglioso. Come ci siamo accostati alla storia scritta da Silvia Ziche lo facciamo anche per il disegno e nel modo con il quale lei racconta in maniera così originale il suo modo di avvicinarsi all'ambiente disneyano lo fa sicuramente il disegno con questa sua linea molto personale molto personalizzata molto morbida nella linea è uno stile che sicuramente si rifà le proporzioni originali dei personaggi ma allo stesso tempo è proprio questa sua linea così morbida così comoda così flessuosa ad addolcire le proporzioni ad addolcire le caratteristiche fisiche dei personaggi e a dargli quel tono e quella verosimilianza nel riuscire a creare quindi dei volumi molto belli da vedere non solo per i personaggi ma anche per quello che li attornia e il fatto che ci siano tanti dialoghi tra i bassotti non sono resi in maniera pesante da vedere ma anzi c'è un continuo cambio di scene e di inquadrature che aiuta sicuramente anche tanto la lettura una meraviglia perché silvia ziche è sempre stupenda all'esatto opposto troviamo invece il disegno di paperone e la sua limousine un disegno come la storia molto vintage la linea perde qualunque modularità nello spessore si assottiglia e non è solo questo quello che fa ritornare il disegno in quelli che sono dei canoni molto più vintage infatti i volumi tornano a essere molto più tondeggianti sembrano quasi più dei palloncini cambiano le fisionomie tornano veramente indietro nel tempo e allo stesso modo anche le vignette sia nella loro disposizione nelle tavole che ovviamente nelle scene che vengono create al loro interno la storia di pippo segna l'ingresso del disegnatore can fa illa in quello che è il team panini disney e il suo è un disegno molto bello da poter vedere proprio perché riprende con fedeltà le proporzioni classiche della disney ma lo fa con una linea tutta sua una linea sicuramente molto moderna che rende particolare giustizia ai volumi dei personaggi tenta di riuscire a rendere anche topolino ma purtroppo è sempre difficile da rendere questo personaggio e non lo riesce a dare al meglio di sé però per il resto è un disegno veramente molto bello interessante da vedere invece per la storia di paperino e la poltrona rilassante ritorna un disegnatore che io non penso di aver mai visto si chiama surroz mattia questo disegnatore si avvicina come stile a una linea molto più moderna che sicuramente ricorda il modo di disegnare dato a boom boom tanto che i personaggi sembrano alle volte quasi staccarsi dagli sfondi apparire come degli sticker altri invece combinarsi ad essi e questo è dovuto proprio alla linea e al modo con il quale è tratteggiata e al modo con il quale i personaggi vengono resi nonostante questo però anche se alle volte sembrano appunto degli sticker i volumi sia dei personaggi che degli sfondi sono mantenuti e quindi la resa e la lettura delle immagini è mantenuta interessantissimo il disegno di gamba di legno e sgrinfia che è sicuramente molto moderno ma riesce a mantenere fedele alle anatomie e le fisionomie dei personaggi anzi addirittura sgrinfia riesce a essere disegnato quasi più ringiovanito io noto che è più bello da vedere in questa puntata che in tante altre viste in passato perché appunto è rinfrescato come volto le vignette sono sì molto semplici ma allo stesso tempo molto facili da leggere nonostante manchino i dettagli quel po che c'è rende comunque facile la lettura quello che invece vediamo in area 15 è una preview per cui in realtà non c'è tanto da dire neanche sul disegno perché il disegno riprende quelli che sono i canoni un po più moderni che abbiamo già visto nelle puntate precedenti per cui questa linea così bella moderna e soprattutto la creazione di questi volumi così ben delineati mi fa ben sperare voglio sperare che la storia sia più bella dell'ultima che abbiamo letto questo ovviamente è quello che io penso di questo numero del topolino ma vi aspetto sempre nei commenti qui sotto ditemi la vostra fatemi sapere cosa ne pensate voi se questa puntata poi ovviamente vi è piaciuta mettete un mi piace fatemelo sapere condividendola anche con i vostri amici è l'unico modo con il quale mi potete aiutare e anzi se volete aiutarmi ancora di più iscrivetevi a questo canale e fate iscrivere anche i vostri amici cliccando il pulsante qui sotto e attivando la campanella al lato io vi ringrazio tanto per la visualizzazione mi trovate in tutti i social network che sono qui sotto nell'info box ma fate visita soprattutto a www.retrattinocenso.it e iscrivetevi nei gruppi facebook e telegram in salotto dei recenziani io sono Dario questa è il recenso e noi ci vediamo lunedì prossimo con una prossima puntata sempre qui sempre su recenso pronti a sfogliare un nuovo topolino e volare insieme nel mondo della fantasia disney e iscrivetevi al nostro canale e iscrivetevi al nostro canale